Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo subito parlando della vicenda dell'aeroporto d'Abruzzo. Il Partito Democratico attacca l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Daniela Aiuto dopo l'interrogazione respinta dalla Commissione Europea sul caso dei fondi stanziati a favore dell'aeroporto. Oggi il PD parla di un Abruzzo colpito dal fuoco amico. Si è trattato di fuoco amico, così ha sintetizzato il coordinatore regionale del PD Camilo D'Alessandro sul caso dell'interrogazione parlamentare mossa dalla rappresentante del Movimento 5 Stelle Daniela Aiuto sul caso dei fondi ricevuti dalla società di gestione aeroportuale Saga. La questione che oggi ha mobilitato in una pubblica conferenza ai democratici arriva dopo la decisione della Commissione Europea a non procedere sulle richieste mosse a fine gennaio dalla grillina. Ed oggi il governo regionale spara a zero su quello che ha definito un atto a danno della propria regione che da mesi cerca di salvare l'infrastruttura più importante del territorio. Noi abbiamo un unico collegamento veloce che è quello dell'aereo e lo stiamo combattendo con Ryanair, con l'Anitalia, col governo per cercare di salvare mentre noi facciamo tutte queste iniziative. Anche con larga convergenza degli schieramenti politici c'è un abruzzese che a Bruxelles lavora contro. C'era qualcosa di fondato nei dubbi che ha mosso oppure era tutto assolutamente irrazionale? Se fosse stata vera e solida le argomentazioni utilizzate dall'iniziativa parlamentare la conseguenza che ci sarebbe stata per l'Abruzzo era la chiusura immediata dell'aeroporto. Ci troviamo di fronte ad un caso incredibile del fuoco amico dove un parlamentare, un rappresentante abruzzese agisce contro l'Abruzzo, contro gli interessi degli abruzzesi. A replicare le dichiarazioni pubblicate dal governatore d'Abruzzo sui social è proprio l'europarlamentare 5 Stelle che si definisce sconcertata dai toni volgari e offensivi di Luciano D'Alfonso con la sua nota violenza verbale e afferma di aver agito alla luce di una scellerata gestione dell'aeroporto che dopo l'annunciata di partita di Ryanair avrebbe potuto ripercuotersi sulle tasche dei suoi concittadini abruzzesi da lei rappresentati a Bruxelles e già tartassati da tasse regionale e surplus di ticket sanitari e chiude annunciando al governatore che non si fermerà davanti al suo atteggiamento intimidatorio e che a breve presenterà altre interrogazioni alla Commissione europea fino allo sfinimento. È conclusa questa mattina con una lezione magistralis all'Università di Teramo la due giorni in Abruzzo del Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi che ieri ha presentato il suo ultimo libro, Ritorno al diritto mentre questa mattina ha tenuto una lezione agli studenti dal titolo Diritto e fatti economici Italia-Europa e spazio globale. È stata una riflessione ad ampio raggio sulla storia e l'evoluzione del diritto l'Alexio Magistralis del Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi tenuta questa mattina all'Università di Teramo davanti ad una platea di studenti grazie alla presenza, tra gli altri, del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini. Paolo Grossi ha parlato come professore storico del diritto rivolgendosi direttamente agli studenti e tracciando tutte le tappe che hanno portato a quello che oggi rappresenta il diritto facendo riferimento e spiegando cosa si intende ad esempio per modernità del diritto e quali siano i rischi di un'interpretazione come scienza pura quando cioè l'unico produttore del diritto diventa il potere politico riducendo la legge e i soli codici ed escludendo quindi i fatti legati alla giurisprudenza ma il passaggio più significativo è stato senza dubbio quello legato alla Costituzione che secondo Grossi ha avuto il pregio di interpretare la società che l'ha generata i fatti costituenti ebbero questo grande pregio vogliono leggere le trame di una società ormai rinnovata liberata dal fascismo, dall'altro genere della guerra che aveva ritrovato la sua autentica dimensione democratica lettura della società per capire valori e interessi diffusi e trarre quello che voleva essere la carta costituzionale offrire un verbiario giuridico al cittadino ma non a dei modelli di uomo ma a dei soggetti esistenti in un ambiente sociale particolare Legnini ha poi sottolineato l'importanza della presenza del Presidente della Corte Costituzionale in Abruzzo in particolare nell'Ateneo Terramano demandato alla formazione di coloro che scriveranno il futuro del diritto una presenza molto importante è stata preziosissima per i giovani laureati della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo un'occasione straordinaria per riflettere sui grandi temi del diritto dell'ordinamento giuridico oggi, del rapporto tra diritto ed economia del ruolo della giurisdizione oggi che è un ruolo sempre più rilevante Il GUP di Milano Laura Marchiondelli ha spacchettato il procedimento sul caso Rubiter in cui Berlusconi è imputato insieme ad altre 30 persone e con al centro l'accusa di corruzione in atti giudiziari e ha disposto la trasmissione degli atti per competenza territoriale in altri sei tribunali, tra cui quello di Pescara A Milano rimane l'ex premier con altri 23 imputati compresi quelli accusati solo di falsa testimonianza mentre trasloca a Pescara l'ex meteorina Miriam Loddo ora i magistrati dei sei uffici giudiziari dove il giudice ha trasmesso gli atti per la parte di loro competenza dovranno di nuovo riformulare la chiusura delle indagini Berlusconi assolto in Cassazione dalle accuse di concussione e prostituzione minorile per la procura questa volta avrebbe comprato con oltre 10 milioni di euro il silenzio o la reticenza della marocchina e delle altre ragazze passate dalle feste hard di Arcore al banco dei testimoni Poi ancora controlli dei carabinieri del NAS di Pescara in due ristoranti di pesce uno nel capoluogo adriatico e un altro a Francavilla al mare nel primo caso è stato accertato che i gestori detenevano prodotti ittici sottoposti a procedure di congelamento non a norma e in cattivo stato di conservazione 150 kg di pesce non tracciato sono stati sequestrati mentre i due titolari sono stati denunciati Nell'attività di Francavilla al mare invece i ristoratori vendevano come freschi prodotti ittici congelati all'origine è stata imposta l'immediata comunicazione obbligatoria circa la vendita di pesce congelato e per i due titolari è scattata la denuncia per tentativo di frode in commercio NAS in azione anche nell'Aquilano niente tracciabilità per circa 500 kg di prodotti ma anche violazione di direttive e regolamenti sull'igiene per questo alcune aree di un panificio di Paganica laboratorio di panificazione e locale Silos Farine sono state chiuse si tiene di protesta questa mattina a Pescara da parte dei residenti di Sant'Omero a causare la mobilitazione dei cittadini e associazioni di categoria la notizia della realizzazione di una piattaforma di smaltimento di rifiuti speciali in un'area popolata da attività agricole e commerciali già più volte vittima di allagamenti una protesta sotto al palazzo della regione di Pescara nel giorno della conferenza dei servizi per far sentire la propria voce circa la realizzazione di una piattaforma di smaltimento di rifiuti speciali che dovrebbe sorgere a Sant'Omero la preoccupazione dei residenti si concentra su tutta una serie di circostanze che comprometterebbero attività commerciali, produttive e soprattutto la salute dei residenti perché riteniamo che questa struttura abbia dei vizi procedurali che stiamo contestando e stiamo evidenziando affinché la regione se ne renda conto ma poi come principio siamo contrari perché è una zona altamente produttiva dove si producono prodotti di qualità dove si producono produzioni denominate a marchio di origine dove ci sono prodotti biologici e quindi non ha nulla a che vedere con questo territorio Tra le contestazioni mosse dai comitati manifestanti l'assenza di una rete fognaria nell'area dove dovrebbe sorgere la piattaforma di rifiuti l'assenza di un depuratore, il ricorrente fenomeno dell'allagamento che già più volte aveva compromesso le attività commerciali presenti e la vicinanza al fiume, a sua volta distante solo 5 km dal mare la presenza di rifiuti speciali si andrebbe dunque ad aggiungere ad una situazione già lamentata da tempo dei suoi residenti Per la salute lo riteniamo veramente nocivo perché questo tipo di attività è apertamente nocivo e non abbiamo visto neppure sul progetto le eventuali soluzioni abbiamo però fatto una relazione, abbiamo preso di tecnici abbiamo fatto una relazione come comitato civico l'abbiamo consegnata alla regione, l'abbiamo consegnata agli enti competenti l'abbiamo consegnata al nostro comune Ed è stata rinviata la conferenza dei servizi che si è tenuta questa mattina in via Passo Lanciano a Pescara sul progetto relativo alla realizzazione della piattaforma per il trattamento dei rifiuti nella frazione di Poggio Morello a Santomero i rappresentanti degli enti interessati, alcuni dei quali non avevano neanche ricevuto la documentazione sul caso hanno chiesto altro tempo per studiare le carte e compiere degli approfondimenti il rinvio non è stata ancora stabilita la data, si è reso necessario anche la luce dell'assenza di esponenti dell'Arta che rivestono un ruolo di primo piano nella valutazione dell'impatto ambientale e ora andiamo a Pizzoli ancora per la vicenda Banca Etruria i correntisti occupano la filiale di Pizzoli i piccoli risparmiatori hanno indetto una protesta all'interno della banca chiudendo i loro conti hanno fatto una cosa talmente pietosa che hanno messo in crisi proprio il sistema bancario mentre una volta come lei domani ci avrà dei piccoli soldi dove li mette lei? non è sempre che ne beneficerebbe la banca di questi soldi suoi, dei risparmi suoi ma ci vogliamo entrare nel culto oggi di quello che cosa può essere un domani per noi però in Africa, dove li mandiamo? i piccoli risparmiatori della Banca Etruria di Pizzoli che hanno perso tutti i loro risparmi bruciati da obbligazioni spazzature lanciano l'operazione Bank Run, via dalla banca oggi si sono riuniti infatti in una ventina fuori la filiale di Pizzoli e poi sono entrati con un cartello al collo per chiudere i loro conti correnti con l'intenzione di trasferire i loro residui risparmi all'estero a portare all'ennesima clamorosa protesta la mancata approvazione del decreto che avrebbe consentito un rimborso annunciato in pompa magna proprio all'Aquila dal sottosegretario all'economia di scelta civica Enrico Zanetti pare infatti che non si trovano i 300 milioni di euro per restituire i soldi a 10.500 occorrentisti italiani di cui 1.500 è solo a Pizzoli sottoscrittori di azioni e obbligazioni di cui ignoravano i rischi e che hanno perso tutto a seguito del decreto del governo per salvare, oltre a Banca Etruria Carichieti, Banca Marche e Carife dentro la filiale nessun momento di tensione ma tanta rabbia e determinazione noi non siamo degli investitori siamo degli spagnatori e non sono d'accordo con il presidente di Banca d'Italia che ci ha definito degli analfabeti pensasse a fare il proprio compito che fino adesso non lo ha fatto e quindi noi pretendiamo che ci vengano restituire i soldi abbiamo parlato 15 giorni fa con il sottosegretario Zanetti il quale non è stato in grado di dirci in merito al decreto attuativo che doveva uscire quali erano i criteri però voci che stiamo sentendo che vogliono mettere addirittura anche dei limiti di reddito è una sorbitata perché qui dipendentemente da quello che ognuno di noi guadagna onestamente tutti i giorni abbiamo diritto a riprendere i nostri risparmi e noi non siamo stati informati su quello che succedeva in banca siamo stati truffati non siamo truffatori e rivolgiamo i nostri risparmi interamente il sistema bancario italiano non è solido da risolvere il nostro problema da trovare la miseria di 300 milioni sarebbe stata una cuoca a mettere in allarme un'intera scuola con bambini di piccola età frastornati e spaventati dal trambusto di una evacuazione del loro asilo i carabinieri della compagnia di Teramo hanno impresso una svolta alla vicenda dei continui allarmi attorno alla scuola dell'infanzia e del nido la coccinella di piano solare di Teramo una donna di 34 anni dipendente della ditta esterna che fornisce i pasti all'asilo è stata formalmente indagata per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio il comune di Montesilvano annuncia di aumentare la tassa sui rifiuti a tutti gli albergatori che hanno scelto di accogliere gli immigrati e alle banche scende invece fino a quasi il 3% l'imposta per tutti i cittadini di Montesilvano Tassa sui rifiuti meno onerosa per i cittadini di Montesilvano oscillerà dallo 0,2% al 2,8% la riduzione grazie a un provvedimento approvato nella giornata di ieri dal Consiglio Comunale che andrà a sostegno delle categorie più deboli in misure progressive la notizia che invece non è stata presa con entusiasmo da altri è quella dell'aumento della tariffa per due categorie alberghi e banche avranno un rincaro sulla tassa ma non tutti solo quelli che accolgono immigrati questo non significa che siamo contro l'accoglienza sia ben chiaro siamo contro probabilmente questo modo di voler generare profitti senza rendersi conto che effettivamente il proprio egoismo cela poi un danno per tutto quanto il territorio la decisione arriva alla luce di alcune considerazioni come quella della compromissione di zone prettamente a vocazione turistica che saranno danneggiate da questa scelta effettuata da alcuni albergatori se da un lato gli alberghi aderenti al progetto di accoglienza avranno guadagni grazie ai contributi versati dallo Stato che prevedono 30 euro al giorno per ogni immigrato accolto dall'altro c'è un danno causato all'intera categoria che vive di turismo ad oggi abbiamo due strutture alberghiere che sono inserite purtroppo devo dire proprio nel pieno delle zone turistiche della città questo ovviamente oltre che generare dei timori nei residenti va a provocare delle indubbie ricadute negative su tutte quelle che sono le aspettative del territorio su una stagione turistica che sta per partire e che potrebbe esserne condizionata in negativo 150 ragazzi degli istituti Alessandrini Forti e Liceo Classico hanno preso parte all'Internet Day della Camera di Commercio di Teramo con il supporto di Union Camere e Info Camere l'evento cade nel trentesimo anniversario della prima connessione dell'Italia alla rete avvenuta il 30 aprile del 1986 Nel giorno del trentesimo anniversario della prima connessione dell'Italia alla rete avvenuta il 30 aprile 1986 la Camera di Commercio di Teramo con il supporto di Union Camere e Info Camere ha organizzato l'evento titolato Happy Birthday Internet in Italia Tutti quanti gli strumenti che loro utilizzano nella loro vita quotidiana e che oramai danno per scontato in realtà provengono da una serie di studi e ricerche che sono durate decenni e che oggi ci permettono di condividere le informazioni in maniera estremamente veloce Un'occasione per far capire ai nativi digitali quale ruolo svolge oggi Internet nella vita quotidiana e quali straordinarie opportunità possano aprirsi con l'ulteriore diffusione di servizi basati sulle nuove tecnologie partendo proprio da quelli erogati dall'intero sistema camerale e dalla Camera di Commercio di Teramo Vorremmo veramente far comprendere loro come la costruzione di una professionalità e delle loro competenze non più come si diceva prima dei saperi costituisce un cammino utile ad inserirsi nel mondo del lavoro Ma noi da un po' di tempo da parecchi anni facciamo alternanza scuola lavoro all'Ipsia e la collaborazione con la Camera di Commercio per noi riveste un aspetto molto importante Oggi questo è una giornata dove sicuramente potrebbero nascere altre cose in futuro ce lo auguriamo nell'interesse nostro e nell'interesse della Camera di Commercio Alvia a Pineto i lavori per il completamento della pista ciclabile il progetto sarà completato con la realizzazione di stazioni per il bike sharing Sono stati affidati i lavori per il completamento della pista ciclabile quali saranno i tempi Sindaco? Allora i tempi intanto il lavoro avranno inizio da qui a 20 giorni ovviamente quelli compatibili con la stagione estiva quindi saranno i primi lavori poi per riprendere dopo l'estate con questo lavoro completeremo l'intera costa della città pinetese in attesa poi che la provincia inizi e completi i lavori di realizzazione del ponte sul Vomano a questo punto avremo collegato l'intera costa inoltre stanno terminando proprio in questi giorni i lavori di collegamento ciclo pedonale del centro di Pineto e Borgo Santa Maria ecco Pineto sta puntando molto sul cicloturismo sulla mobilità sostenibile a breve inoltre avvieremo uno studio proprio sul di piano urbano di mobilità sostenibile perché crediamo che guardando al futuro Pineto possa ridurre la presenza delle auto e mettere al centro il pedone e il ciclista Un progetto questo che rientra ricordiamo nel Bike to Coast Sì rientra nel Bike to Coast lo stanziamento per la nostra città era di 1.400.000 euro oltre alle opere infrastrutturali sono previste anche stazioni di bike sharing alcune previste nell'ambito del programma della regione Abruzzo che sta portando avanti con TUA ed invece altre stazioni sono previste nel secondo progetto di pista ciclabile all'interno del progetto nel piano della sicurezza stradale regione Abruzzo biciclettica quindi verranno altrettanto bici già entro l'estate posizionate al centro circa 50 e 20 invece nella zona di Borgo Santa Maria quindi con la possibilità al pedone di usufruire non solo della pista ma anche della possibilità di avere delle bici a disposizione apriamo ora la pagina dello sport chiaramente subito con la serie B essendo questa una giornata di vigilia sia per il Pescara sia per la Virtus Lanciano ma partiamo dal Pescara oggi ultimo allenamento per la squadra di Massimo Oddo presso il centro sportivo Genoa Sport City riscaldamento esercizi di rapidità e tattica per definire al meglio gli ultimi accorgimenti in vista della gara di domani al comunale di Chiavari il tecnico Massimo Oddo riavrà a disposizione Benalì dopo la lunga squalifica nell'Entella squalificato l'ex Cutolo torna a disposizione Masucci sfida nella sfida quella tra i primi due cannonieri del campionato Gianluca Lappadula da un lato e il più diretto inseguitore Francesco Caputo della Virtus Entella il servizio 5 partite consecutive e la voglia di non fermarsi per il Pescara di Massimo Oddo però alle porte c'è un nuovo esame in chiave playoff in casa della Virtus Entella una delle squadre rivelazione di questo campionato l'attuale striscia ha permesso al Pescara di ipotecare l'ingresso nei playoff con 6 punti di vantaggio sul nono posto a 4 giornate dalla fine in attesa del consenso della matematica resta la necessità per i biancazzurri di continuare a spingere a tutta perché nel giro di pochi punti ballano diverse posizioni della griglia playoff e chiudere al terzo o quarto posto vorrebbe dire evitare la trappola del primo turno secco ecco perché il tecnico Massimo Oddo si preoccupa che la squadra non abbia cali di tensione né per questo match con l'Entella né per quelli successivi quando i biancazzurri se la vedranno con squadre che avranno il sangue agli occhi perché a caccia della salvezza per la trasferta di domani a Chiavari il Pescara potrà contare sui propri tifosi se nelle ore antecedenti la partita di La Spezia la trasferta era stata bloccata a sorpresa sempre a sorpresa in questo caso è stata presa la decisione contraria poco tempo comunque per l'acquisto dei tagliandi lo stop oggi alle ore 19 circa la formazione Oddo a centrocampo recupera Benali ma non avrà Berre confermata la difesa composta da Vitturini fresco di rinnovo quinquennale Mandragora Fornasiera e Zampano davanti a Fiorillo resta il dubbio su chi completerà il trio mediano con Memuscei e Torreira e chi il tridente d'attacco con Caprari e Lapadula recuperato quest'ultimo dopo una settimana non facile Oddo ha detto che Benali giocherà e allora il ballottaggio sarà tra Pasquato e Bruno a seconda della scelta si definirà anche il ruolo del giocatore libico mezzala o trequartista e dal quale l'allenatore pescaresi si aspetta tanto dopo la lunga squalifica sul fronte opposto il tecnico Aglietti dovrà rinunciare agli squalificati Sestu e l'ex Cutolo e agli infortunati Costa Ferreira e Jadid altro ex tornerà Gaetano Masucci che nello speculare 4-3-1-2 dei Diavoli Neri agirà alle spalle Didi Carmine Caputo l'attaccante ex Bari già nel merino del Pescara in passato darà vita alla sfida nella sfida con la Padula il Biancazzurro guida la classifica dei Bomber con 24 centri Caputo è il primo inseguitore a 17 in porta il pescarese Jacubucci linea di difesa con Iacoponi Pellitzer Ceccarelli e Keita in mezzo Troiano Staiti e Palermo dirigerà Maresca di Napoli il Pescara cercherà di confermare la tradizione che l'ha visto sempre vincere nei tre precedenti di Serie B 4-0-2-0 in Riva l'Adriatico e 2-5 lo scorso anno tripletta del sindaco Marco Sanzovini è obbligo dei tre punti contro l'Avellino per la Virtus Lanciano che dopo la bella prova di Cagliari deve uscire dalla zona retrocessione in cui è finita a causa della forte penalizzazione torna a disposizione Vitale potrebbe lasciargli spazio Rocca Irpini in emergenza difesa mentre in attacco mancherà il Bomber Castaldo sarà un Avellino con i Cerotti quello che giocherà domani al Biondi contro una Virtus Lanciano affamata di punti 9 ne serviranno per essere certi della salvezza diretta i rossoneri sono finiti in zona retrocessione a causa della pesante penalizzazione ma le distanze sono ridottissime e soprattutto quel che fa ben sperare è l'atteggiamento visto a Cagliari a penalizzazione appena arrivata squadra attenta e arrabbiata come lo dovrà essere nelle ultime quattro gare di campionato dove i margini di errore sono nulli e sarà peccato esiziale sottovalutare l'avversario anche se quello di domani Lavellino non vince da sette partite e si è da poco consumato il doppio ribaltamento tecnico con l'allenatore Attilio Tesser prima esonerato poi richiamato dopo il disastro della gestione Marco Lin un punto in cinque partite Tesser è ripartito col pari di Vercelli e per la gara di domani dovrà fare a meno dell'ex Fabrizio Paghera squalificato e degli infortunati Rea Pisano e Castaldo il bomber sarà sostituito da Joao Silva che farà coppia con Mokulu in difesa toccherà il jolly Gidai di rientro da una lunga assenza che giocherà al centro probabile esclusione per l'altro ex Raffaele Pucino attesi 400 tifosi dalla campagna il tecnico lancionese Primo Maragliulo ripartirà dalla squadra che ha fatto bene a Cagliari davanti al nuovo uomo ragno Frentano Alessio Cragno Aquilanti e Amenta saranno i centrali salviato in grande ascesa occuperà il settore di destra di Matteo a sinistra con il ritorno dalla squadifica di Vitale si impone una scelta Rocca o Vastola i due stanno benissimo e non sarà facile tenerne uno fuori intoccabile il trio offensivo con Marilungo e Di Francesco a sostegno di Ferrari direzione di gara affidata a Martinelli di Roma 2 e ora la Lega Pro la questura dell'Aquila ha emesso dei DASPO a seconda delle posizioni da 1 a 2 anni per 8 supporters dell'Aquila Calcio per il difensore Chirieletti e per il padre del calciatore i provvedimenti sono relativi agli scontri avvenuti dopo la partita l'Aquila-Siena i due quindi Chirieletti e il padre sono stati ritenuti parte attiva di quanto avvenuto in quei frangenti nessun provvedimento invece è stato preso per l'altro calciatore dell'Aquila Salvatore San Domenico anche lui rimasto coinvolto in quel rovente dopo partita e ora parliamo di Teramo con le parole in conferenza stampa pre-gara del tecnico Vincenzo Vivarini si è fermato anche il difensore Caidi dopo il capitano Ivan Speranza e per la gara contro la SPAL Vivarini pensa all'inserimento di alcuni giovani ascoltiamolo noi quest'anno abbiamo vissuto un anno sempre con la testa a questo pensiero è inutile cercare di negarlo oppure dire di no e robe varie io tutte le volte che guardavo le partite di Serie B c'era questa grande malinconia all'interno mio ma non solo mio penso di tutta la città di Teramo di tutti i tifosi e dei giocatori della società del Teramo perché effettivamente c'è stato fatto un grandissimo torto e adesso effettivamente la partita con la SPAL va a ritoccare sempre questo discorso perché noi l'anno scorso eravamo noi in questa situazione e quindi complimenti a loro ci abbiamo sempre questo grande velo di tristezza adesso con la SPAL devo ancora sentire perché comunque è l'unica partita dove non ci si gioca niente né da parte nostra né da parte loro quindi si potrebbe anche partire con qualche ragazzo anche titolare però c'è l'imbattibilità del Bonolis che sarebbe bello tenerlo insomma fino alla fine però poi sono scelte che lascio fare alla società ieri si è fermato anche Caidi per lo stesso problema distorsione della caviglia bisogna valutare l'entità lo vediamo anche oggi domani se è della partita Beolupo conosco da tanto ci ho giocato contro ci ho lavorato insieme insomma quindi lo conosco bene no 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 ancora ancora no ancora non non lo sento quindi tutto da da vedere finisce qui la seconda edizione del TG6 la prossima alle ore 23 grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la visione